Ciao, qui è il pastore Fabiano Nicodemo e in questo periodo in cui noi più che mai abbiamo bisogno proprio di pregare al Signore, di condividere a Lui le nostre richieste di preghiera, è nato nel mio cuore il desiderio di formare un gruppo di preghiera ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino fino alle 7.30, finché noi abbiamo tante richieste di preghiera noi continueremo a pregare e quindi voglio invitarti a partecipare di questo network di preghiera al Signore. Questo è l'unico obiettivo, presentare la nostra vita davanti a Dio. Quindi se tu hai una richiesta per un motivo spirituale, un motivo di salute, un motivo economico, un motivo per la tua famiglia, noi vogliamo pregare tutti insieme. Io voglio pregare a Dio per la tua vita. Allora per fare di questo una operazione più semplice, io ho creato una scheda online dove tu puoi iscrivere, puoi accedere dal tuo cellulare e iscrivere la tua richiesta di preghiera. Quindi io ti mando il link, ti chiedo anche di passare parola e di continuare a pregare. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino, nel canale di YouTube di Nicodemo Fabiano, www.youtube.com slash Nicodemo Fabiano, oppure tu puoi andare sulla pagina di Alba Nuova su Facebook. Io ti aspetto, il Signore è con noi, Dio ti benedica. Grazie a tutti.